Quali puri spiriti ci fa conoscere la fede? La fede ci fa conoscere i puriti spiriti buoni, ossia gli angeli, e i cattivi, ossia i demoni. Chi sono gli angeli? Gli angeli sono i ministri invisibili di Dio ed anche nostri custodi, avendo Dio affidato ciascun uomo ad uno di essi. La fede ci fa conoscere i puri spiriti buoni, ossia gli angeli, e i cattivi, ossia i demoni. Gesù fu condotto dallo spirito nel deserto per essere tentato al diavolo e dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, ebbe fame. Il tentatore, allora, lo portò su di un monte assai alto e mostrandogli tutti i regni della terra e la loro magnificenza gli disse «Tutto questo ti darò se, prostrandoti, mi adorerai». Ma Gesù gli rispose «Va via Satana, perché sta anche scritto «Adererai il Signore Dio tuo e servirai a Lui solo». Allora il diavolo si allontanò e gli si accostarono gli angeli a servirlo. In questo racconto evangelico ci è rivelata l'esistenza degli angeli buoni e degli angeli cattivi. Gli angeli sono i ministri invisibili di Dio. La parola greca «angelos» significa «ministro», «ambasciatore», «inviato», «incaricato». La fede adopera questo nome non per indicare la natura degli angeli, ma il loro ufficio. In cielo gli angeli formano la corte del Re Eterno, cantano le sue lodi, lo glorificano. Inoltre lo servono governando secondo i suoi voleri il mondo inanimato, e specialmente gli uomini. Gli angeli furono i ministri di Cristo, che spesso servirono anche visibilmente. Gesù stesso disse a Pietro nell'orto degli olivi che, se gli avesse voluto, avrebbe potuto pregare il padre, che gli avrebbe inviato un numero sterminato di angeli per difenderlo dai nemici. Terzo, ed ha anche i nostri custodi, avendo Dio affidato ciascun uomo ad uno di essi. Dio affidò agli angeli in modo speciale la custodia degli uomini, che sono la parte più nobile del creato visibili, e partecipano della natura invisibile dello spirito. Ai suoi angeli Dio ha dato ordine di custodirti in tutti i tuoi passi. Essi ti portano in palma di mano, perché il tuo piede non inciampi nella pietra. Camminerai sul leone e sulla vibra, e calpesterai il leoncello e il serpente. Ci raccontano i salmi. Il profeta Daniele parla di principi celesti o angeli ai quali è affidato da Dio la protezione e la custodia dei popoli, persiani, ebrei, greci, ed è certo che ogni nazione, probabilmente anche ogni città, è affidata alla tutela di un angelo in particolare. L'arcangelo Michele era il custode, il protettore del popolo ebraico nell'Antico Testamento, e la Chiesa, nel Nuovo Testamento, lo ha scelto come suo protettore e lo prega dopo ogni messa per essere protetta e perché siano protette tutte le anime contro le insidie diaboliche. L'Apostolo San Giovanni, indirizzando il libro dell'Apocalisse ai Vescovi di Sette Chiese dell'Asia Minore, dando loro il nome di Angeli, lascia credere che le singole diocesi siano affidate da Dio a un angelo in particolare. Nostro Signore dice che gli angeli dei bambini vedono sempre la faccia del Padre Celeste e fa intendere che ogni bambino è affidato alla custodia di un angelo, San Pietro, quando fu liberato dal carcere in cui lo aveva fatto chiudere Erode, tornò e bussò alla porta della casa dove erano donati i fedeli. Questi, udite la sua voce, non credevano che fosse l'Apostolo in persona, ma il suo angelo. Da questi cenni si deduce, ed è di fede comune nella Chiesa, che ogni uomo è affidato a un angelo in particolare, dal primo momento dell'esistenza fino all'ultimo anelito di vita. Un bellissimo esempio della cura che l'angelo custode si prende di ciascun di noi lo leggiamo nel libro ispirato di Tobia. L'angelo, qui siamo affidati in particolare dall'ufficio principale che esercita il nostro favore detto custode, è sempre al nostro fianco, continuamente ci illumina, ci suggerisce buone ispirazioni, buoni propositi, pii sentimenti, ci custodisce dai pericoli e dalle tentazioni, ci protegge anche contro i pericoli fisici. Soltanto in cielo comprenderemo di quanti aiuti e grazie siamo debitori al nostro angelo custode, cui dovremo la nostra salvezza eterna.